Tornano a partire da settembre gli appuntamenti con i percorsi formativi gratuiti che portano a conseguire il cosiddetto patentino per proprietari di cani, proposti dal Dipartimento Veterinario di ATS in Subria e rivolti a chi desidera acquisire maggiore dimestichezza con il proprio amico a quattro zampe. I corsi sono aperti ad adulti e bambini e sono obbligatori per i proprietari di cani oggetto di ordinanza di pericolosità. Nel programma degli incontri si trovano approfondimenti sul comportamento del cane, focus su linguaggio e comunicazione e prevenzione degli episodi di morsicatura. Durante il corso verranno fornite indicazioni per una corretta gestione dell'animale domestico e aggiornamenti normativi, in particolare rispetto a obblighi e responsabilità dei proprietari. Non mancheranno suggerimenti per strutturare una serena convivenza, istruzioni per il primo soccorso e la gestione degli episodi di avvelenamento. Entro fine anno saranno avviate quattro diverse opportunità di iscriversi tra Como e Varese a questi corsi che hanno vincolo di frequenza obbligatoria. Al termine delle dieci ore di incontri è previsto un test di apprendimento per consentire il rilascio del patentino. La modulistica per l'adesione e ulteriori informazioni sono presenti sul sito di ATS in Subria.